In Francia gli omosessuali potranno tornare a donare il sangue a partire dalla prossima primavera. Finisce una discriminazione, ha detto il ministro della salute Marisol Touraine. Dalla 1983, per i maggiori rischi di contrarre l'HIV, era vietato donare il sangue a qualsiasi uomo che avesse avuto almeno un rapporto sessuale con un'altra persona dello stesso sesso.